Il premio che questa sera abbiamo dedicato a un grande scrittore, a un grande giornalista RAI, a un uomo che ha scritto tanto, ma consentitemi di dire, ha scritto la storia politica non solo di questa nazione, ma ha citato tutte le grandi donne del mondo. Prego. Una serata ricca di emozioni. Nella splendida cornice della fornace di Agropoli si è svolto ieri sera il premio Paolo Serra 2024. Il riconoscimento è andato alla giornalista RAI e scrittore Ermanno Corsi, che durante la serata ha presentato il suo libro Le donne che conquistano il mondo, da Palazzo Chigi alla Casa Bianca. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e del presidente della provincia Franco Alfieri, gli autorevoli interventi del giornalista Nicola Nigro e del presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, Alfonso Andrea. L'iniziativa, che torna dopo diversi anni di stop, si pone quale obiettivo? Quello di valorizzare i personaggi di carattere nazionale e locale legati alle attività svolte dall'ex sindaco di Agropoli, Paolo Serra, deceduto nell'agosto del 2014. Commosso il ricordo della sorella Elvira, che insieme a tutta la famiglia Serra ha voluto fortemente il premio, avviato qualche anno fa dal giornalista Sergio Vessicchio, che con il compianto sindaco ha condiviso l'esperienza televisiva di Teleagropoli Cilento. Leggiamo la motivazione. Nella sezione cultura il premio intitolato al professore Paolo Serra viene assegnato per quest'anno 2024 al giornalista Ermanno Corsi. A quel tempo non si diceva globale, a quel tempo si diceva se vuoi essere davvero universale studia, lavora, opera per il progresso della tua città. E io ho riscontrato in questa affermazione la realizzazione vivente, vissuta appunto di Paolo Serra. Beh che dire, innanzitutto grazie a tutti perché siete dopo dieci anni ancora tanti, ciò significa che papà ha lasciato un bel ricordo e siamo felici di questo. Detto questo la presenza del professor Corsi è davvero molto importante perché rappresenta diciamo l'attaccamento al paese, l'attaccamento alla nazione, l'attaccamento alla storia di questo paese insomma, cosa che in papà era molto marcata insomma, no? Papà era una persona vicina alla gente. Ce la facciamo a cantare tutti insieme tanti auguri a te per Ermanno? E io lo togliamo. Vi voglio sentire eh? Uno, due, tre, via! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, ehi ma non vi sento cantando su, no? Tanti auguri a te. Complimenti e c'è anche l'omaggio!